Nuovi particolari emergerebbero dalla sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 22.15 in via Torino a Favara. Il conflitto a fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto prima in strada per poi continuare all'interno di un magazzino sito nella parte alta di via Torino. Una ventina i colpi esplosi tra pistola e mitra che avrebbero provocato il ferimento di almeno due persone. Una di queste si trova da stanotte ricoverata all'ospedale di Agrigento. L'uomo C.N. non verserebbe in pericolo di vita ma si sarebbe chiuso in un tombale silenzio. I militari non escludono possa esserci un collegamento con i fatti avvenuti in Belgio, prima con la morte dell'empedoclino Mario Giacquelic e il ferimento di Maurizio Di Stefano, poi con l'omicidio dell'empedoclino Carmelo Ciffa avvenuto a Favara nei pressi del supermercato Paghipoco di Corso Vittorio Veneto ed infine con l'uccisione a Liegi del favarese Rino Sorce. Insomma, si indaga per capire chi e perché abbia voluto fare un vero e proprio agguato, un conflitto a fuoco che ha interessato le due fazioni. A lavorare sono i carabinieri della locale tenenza, del nucleo radiomobile di Agrigento e del nucleo investigazioni scientifiche. Delle tracce ematiche appartenenti a persone diverse sarebbero state rilevate sia all'interno del magazzino sia in strada, sangue trovato anche nella sovrastante traversa di via Firenze. Tutto ciò lascia a pensare che i feriti sarebbero fuggiti proprio da lì. Tutta la zona interessata era stata transennata con del nastro monitore per consentire agli inquirenti di poter effettuare le dovute ispezioni. Molto interesse da parte degli inquirenti sta riscuotendo il magazzino.